Tornare a Roma per me significa tanto, tutto. Sono stato sempre tifoso della Roma, fin da bambino, sono stato giocatore, sono stato allenatore. Io era tanto che dormivo la notte. Io stanotte, quando ho saputo che potevo essere io, non ho dormito. Questo era tanto che non mi succedeva, per cui è buon segno. Ma mi lega alla Roma la mia romanità, il mio nascere san sabba e stare a testaccio e andare all'oratorio, per cui la Roma era nel mio DNA. Per cui posso dire che tutta la mia vita calcistica è legata alla Roma. Io ricordo quando ancora ero giocatore, giocavo nel Catania, facemmo gli spareggi a Roma e prima di entrare allo stadio, sul pullman, facevo mettere la canzone di Antonello Venditti. Per cui da capitano facevo caricare la squadra con quella canzone, per cui tutto mi lega a Roma. La giornata è stata molto lunga, è una lunga giornata, però è bella, è bella perché quando tu fai le cose con piacere non senti la fatica, non senti nulla. Sono tornato qui a Trigoria, l'ho trovata cambiata, molte cose nuove. Si sta dando veramente una struttura da squadra internazionale. Questo da tifoso romanista non può che farmi piacere. Chiederò poi ai giocatori in queste ultime 12 partite di dare il meglio di loro, di aiutarsi ad essere squadra, di sentire la Roma, come tutti i tifosi della Roma vogliono che i propri giocatori sentano il valore della maglia, il valore di appartenere a questa città. E chiederò loro di dare tutto loro stessi perché solo così io poi dopo sarò contento e appagato. Il risultato è importante, però per me è importante che loro per 90-95 minuti diano tutto quello che hanno. Il primo aspetto del quale per me è molto importante valutare è sicuramente l'aspetto psicologico. Dopo due sconfitte consecutive e l'uscita di Champions League i ragazzi saranno sicuramente abbattuti, ma questo ormai è passato. È passato e devono saper reagire da uomini. Io cerco sempre di collegare la vita calcistica con la vita di tutti i giorni e di tutti noi. Noi siamo dei fortunati, facciamo un mestiere che pagheremmo noi per stare nella Roma o in qualsiasi altra squadra. Io ancora di più per stare nella Roma. Per cui mi reputo una persona fortunata e dobbiamo fare di tutto proprio per questo motivo. Cercare di essere noi stessi, di dar fuori il meglio che abbiamo. È un aspetto psicologico importantissimo. L'attaccamento alla maglia, l'attaccamento alla società, ai tifosi. I tifosi, dopo tutto, sono passionali. È logico che sono insoddisfatti quando la squadra non gioca bene e perde. Ma se vedono la squadra che lotta, che si impegna e poi magari un arbitro all'ultimo non ti dà un rigore e neanche vuole andare a rivedere la VAR, sanno apprezzare lo sforzo della squadra. Per cui è questo l'aspetto principale sul quale io batterò i tasti. Proprio sulla motivazione, sul dare tutto noi stessi per i nostri tifosi. Sicuramente sono cambiato. Sono cambiato perché quando ho iniziato, 32 anni fa, il calcio era diverso. Questo significa che se ancora sono stato chiamato dalla Roma, una squadra che sta lottando per la Champions League, significa che mi sono ogni volta aggiornato. La mia voglia di migliorarmi non mi abbandona. Per cui sicuramente sono migliore dell'anno scorso, di due anni fa e di quando ho iniziato. Dopo questa lunga giornata, io ho già parlato con la squadra e ho chiesto loro determinate cose. Vorrei dire ai tifosi, è un momento particolare, è un momento che in 12 giornate ci giochiamo il futuro. C'è la possibilità di tornare in Champions League. I ragazzi sono sensibili, può darsi che qualcuno non è abituato ancora, perché è giovane, a stare su una piazza così importante, a giocare con serenità e tranquillità. Vi chiedo solo di stargli vicino, di incoraggiarli anche nei momenti difficili, soprattutto nei momenti difficili, perché poi alla fine chi soffre veramente siamo noi tifosi. Grazie.